23. Nel buio, 16 civili, uomini, donne e bambini, e tre membri gravemente feriti dell'esercito del colonnello Macklin, si affaticarono per rimuovere il puzzle di rocce strettamente incastrate nel corridoio del livello inferiore. «Sono solo tre metri fino al cibo», aveva detto loro Macklin. «Tre metri! Non ci vorrà molto per arrivare dall'altro lato, una volta che avrete aperto un varco. Il primo che raggiungerà il cibo avrà una tripla razione». Stavano lavorando nell'oscurità totale da quasi sette ore, quando il resto del soffitto crollò loro in testa senza preavviso. Roland Kroninger, inginocchiato nella cucina della caffetteria, sentì tremare il suolo. Delle urla arrivarono di sopra attraverso un condotto di ventilazione. E poi ci fu silenzio. «Maledizione!» disse, perché sapeva cos'era accaduto. Chi avrebbe liberato quel corridoio adesso? Ma l'altro lato della medaglia era che i morti non consumavano aria. Tornò al suo compito di raccogliere ciò che era commestibile dal pavimento e a infilarlo in un sacco di plastica per la spazzatura. Aveva suggerito che il colonnello Macklin stabilisse il suo quartier generale nella palestra. Avevano trovato un tesoro, il secchio di un mocio in cui potevano conservare l'acqua del gabinetto. Quando Roland, con lo stomaco che brontolava per la fame, li aveva lasciati per cercare cibo nella cucina, sia Macklin che il capitano Warner stavano dormendo. Roland portava la mitraglietta Ingram a tracolla su una spalla, e il manico dell'ascia sacra era assicurato alla sua cintura. A terra, vicino a lui, c'era la torcia, che illuminava resti di cibo che era fuoriuscito dai barattoli della dispensa. Anche i secchi della spazzatura della cucina avevano fruttato qualche scoperta. Bocce di banana, pezzi di pomodori, barattoli il cui contenuto non era stato grattato via del tutto e alcuni biscotti da colazione. Tutto quello che era commestibile finiva nel sacchetto di Roland, tranne i biscotti, che costituirono il suo primo pasto dopo il disastro. Raccolse un pezzo annerito di qualcosa e iniziò a infilarlo nel sacchetto, ma esitò. La cosa nera gli fece ricordare quello che aveva fatto ai criceti di Armbruster nel giorno in cui li aveva portati a lezione di biologia. Gli animali erano stati lasciati nel retro della stanza, dopo scuola, mentre Armbruster era andato all'allenamento di football. Roland aveva preso la gabbia con i criceti, senza essere visto dalle donne delle pulizie, e si era infilato di nascosto nel laboratorio meccanico della scuola. In un angolo c'era una tinozza di metallo che conteneva un liquido bruno verdastro, e sopra essa c'era un cartello rosso che diceva «Indossa i tuoi guanti». Roland aveva indossato un paio di pesanti guanti di amianto, aveva fatto dei versi tranquillizzanti ai criceti e aveva pensato a quando Mike Armbruster lo aveva deriso e gli aveva sputato addosso mentre lui era disteso nella polvere. Poi aveva sollevato la gabbia dal manico e l'aveva immersa nella tinozza di acido, usato per far scintillare come nuovi dei radiatori arrugginiti. Aveva lasciato i criceti immersi fino a quando non smisero di emergere le bolle. Quando aveva estratto la gabbia, aveva notato che l'acido aveva aggredito il metallo e l'aveva consumato fino a farlo scintillare lucido. Poi si era tolto i guanti e aveva riportato la gabbia nell'aula di biologia tenendola con l'estremità di una scopa. Si era chiesto spesso che faccia avesse fatto Mike Armbruster quando aveva visto le due cose nere dove di solito c'erano i criceti. In seguito Roland si era detto spesso che Armbruster non si era reso conto dei molti modi in cui un cavaliere del re può vendicarsi. Il ragazzo lanciò la cosa nel sacchetto, qualunque cosa fosse. Trovò una scatola di fiocchi d'avena e, miracolo dei miracoli, una singola mela verde. Entrambe finirono nel sacchetto. Continuò a strisciare, sollevando le rocce più piccole ed evitando le crepe nel pavimento. Si stava allontanando troppo dalla torcia e si alzò. Il sacchetto della spazzatura pesava di più adesso. Il re sarebbe stato molto compiaciuto. Iniziò a dirigersi verso la torcia, saltando agilmente i cadaveri. Ci fu un rumore alle sue spalle. Non un rumore forte, solo un sibilo d'aria smossa. E seppe che non era più da solo. Prima che riuscisse a girarsi, una mano si chiuse sulla sua bocca. «Prendi il sacco», disse un uomo. «Veloce!». Glielo strapparono di mano. «Lo stronzetto ha anche una Ingram!». Gli strapparono anche quella dalla spalla. La mano si allontanò dalla sua bocca e fu sostituita da un braccio intorno alla gola. «Dov'è Mucklin? Dove si sta nascondendo quel figlio di puttana?». «Io non riesco a respirare!», gracchiò Roland. L'uomo imprecò e lo gettò a terra. Gli occhiali del ragazzo volarono via e uno stivale gli premette sulla schiena. «Chi ha intenzione di uccidere con quella, ragazzino? Vuoi assicurarti di avere tutto il cibo per te e per il colonnello?». Uno degli altri raccolse la torcia e la diresse in faccia a Roland. Dalle voci e dai movimenti pensò che fossero in tre, ma non poteva esserne certo. Trasalì quando sentì scattare la sicura della Ingram. «Uccidilo, Shore!», lo incitò uno degli uomini. «Fagli saltare quel cazzo di cervello!». Shore. Roland conosceva quel nome. Sergente dell'accoglienza Shore. «So che è vivo, ragazzino!». C'era Shore sopra di lui, con il piede piantato sulla sua schiena. «Sono sceso nel centro di comando e ho trovato quella gente a lavorare al buio. Ho trovato anche il caporale Prados. Mi ha detto che un ragazzino ha tirato fuori Macklin da una buca e che il colonnello era ferito. Ha lasciato Prados laggiù a morire, eh?». «Il caporale non poteva muoversi. Non poteva mettersi in piedi per la sua gamba. Abbiamo dovuto lasciarlo». «Chi altri c'è con Macklin?». «Il capitano Warner». «Ansemo Roland». «E basta. Ti ha mandato qui a trovare cibo. Ti ha dato la Ingram dicendoti di uccidere tutti gli altri?». «No, signore». Gli ingranaggi nel cervello di Roland stavano girando, tentando di trovare un modo per tirarsi fuori da quella situazione. Dove si nasconde? Quante armi ha con sé?». Roland restò in silenzio. Shore si chinò accanto a lui e appoggiò la canna della mitraglietta contro la sua tempia. «Ci sono altre nove persone non lontane da qui, che hanno anche loro bisogno di cibo e acqua», disse Shore bruscamente. «La mia gente. Ho pensato che stavo per morire. Ho visto cose». Si fermò scosso e non riuscì a proseguire per qualche istante. «Cose che nessuno dovrebbe vedere e vivere per ricordarle. La colpa di tutto questo è di Macklin. Lui sapeva che questo posto stava cadendo a pezzi. Doveva saperlo». La canna graffiò il cranio di Roland. «Il grande e potente Macklin con i suoi soldatini di piombo e le sue medaglie consumate. Chi si limita a far marciare gli stronzi dentro e fuori da qui? Lui sapeva che questo sarebbe accaduto». «Non è vero?» «Sì, signore». Roland sentì l'ascia sacra a premergli contro la pancia. Lentamente iniziò a muovere la mano sotto il corpo. «Sa che non esiste un dannato modo di raggiungere le azioni d'emergenza, vero? Quindi ti ha mandato qui per raccogliere il resto prima che potesse farlo qualcun altro. Piccolo bastardo». Shore lo afferrò per il colletto e lo scosse, cosa che aiutò Roland a far scivolare la mano più vicina all'ascia sacra. «Il colonnello vuole fare scorta di tutto», disse Roland. «Prendi tempo», pensò. «Vuole riunire tutti e razionare il cibo e vuole...» «Sei un bugiardo! Lo vuole tutto per sé stesso!» «No, possiamo ancora raggiungere le razioni d'emergenza!» «Stronzate!» ruggì l'uomo e nella sua voce si poteva sentire la follia. «Ho sentito crollare il resto del livello uno! So che sono tutti morti! Vuole ucciderci tutti, così può prendersi tutto il cibo!» «Finisci lo Shore», disse l'altro uomo. «Fagli saltare le palle!» «Non ancora! Non ancora! Voglio sapere dove si trova Macklin, dove si nasconde e quante armi ha con sé!» Le dita di Roland stavano quasi toccando la lama. «Più vicino! Più vicino!» «Lui ha... ha un sacco di armi! Ha una pistola e ha un'altra mitraglietta!» «Più vicino! Sempre più vicino!» «Ha un intero arsenale là dentro!» «Là dentro! Dove?» «In... una delle stanze! È in fondo al corridoio!» «Ce l'ho quasi...» «Con l'estanza! Stranzetto!» Ciorlo afferrò di nuovo, lo scosse con rabbia e Roland approfittò del movimento. Sfilò l'ascia sacra dalla cintura e vi si sdraiò sopra, mantenendo una presa buona e forte sul manico. Quando avrebbe deciso di colpire, avrebbe dovuto essere veloce. E se gli altri due uomini avevano delle armi, lui era morto. «Piangi!» disse a se stesso. Fece un singhiozzo forzato. «Per favore! Non mi fate del male! Non riesco a vedere senza i miei occhiali!» Farfugliò e tremò. «Non fatemi male!» Finse di avere un conato e sentì la canna della mitraglietta allontanarsi dalla sua testa. «Piccola merda! Sei solo una piccola merda! Forza! Alzati come un uomo!» Afferrò il braccio di Roland e iniziò a tirarlo in piedi. «Adesso», pensò Roland, con molta calma e determinazione. Un cavaliere del re non aveva paura della morte. lasciò che la forza dell'uomo lo alzasse. E poi scattò come una molla, girando su se stesso e colpendo con l'ascia sacra che aveva ancora un po' del sangue secco del re sulla lama. Il raggio della torcia scintillò sulla mannaia. La lama penetrò la guancia sinistra di Shore come se stesse tagliando un pezzo di tacchino nel giorno del ringraziamento. L'uomo fu troppo scioccato per reagire per un secondo, ma poi il sangue schizzò fuori dalla ferita e il suo dito si contrasse involontariamente sul grilletto, mandando una scarica di proiettili a sibilare accanto alla testa di Roland. Shore barcollò all'indietro, con metà del volto scoperto fino all'osso. Roland gli saltò addosso, colpendo selvaggiamente, prima che l'uomo riuscisse ad alzare di nuovo l'arma. Uno degli altri afferrò la spalla di Roland, ma lui si rivincolò, strappandosi quasi il resto della camicia. Cercò di nuovo di colpire Shore e lo colse nella parte carnosa del braccio che reggeva la mitraglietta. Shore inciampò su un cadavere e l'ingram cadde sferragliando ai piedi di Roland. Il ragazzo la raccolse, la sua faccia si contorse in una smorfia selvaggia e si girò di scatto verso l'uomo con la torcia, sistemò le gambe nella posizione di sparo che gli aveva insegnato il colonnello, prese la mira e schiacciò il grilletto. L'arma ronzò come una macchina per cucire, ma il suo rinculo lo fece indietreggiare sulle macerie e lo fece cadere sul sedere. Mentre cadeva, vide la torcia esplodere nella mano dell'uomo e si sentì un grugnito, seguito da un acuto urlo di dolore. Qualcuno piagnucolò e strisciò via sul pavimento. Roland sparò nel buio e le traiettorie rosse dei proiettili traccianti rimbalzavano dai muri. Si udì un altro grido che si frantumò in rumori gorgoglianti e si allontanò e Roland pensò che uno degli uomini doveva avere messo un piede in una buca nel pavimento. Cadendoci dentro, spazzò la caffetteria con i proiettili e poi smise di sparare, perché sapeva che era di nuovo da solo. Tese l'orecchio. Il suo cuore batteva all'impazzata. Nell'aria restava l'odore dolce di un'arma che aveva sparato. «Forza!» gridò. «Ne volete ancora? Forza!» Ma c'era solo silenzio. Non sapeva se li aveva uccisi tutti oppure no. Era sicuro di averne colpito almeno uno. «Bastardi!» ansimò Roland. «Bastardi! La prossima volta vi ucciderò!» Iniziò a ridere. La risata lo sorprese, perché non sembrava quella di nessuno che conoscesse. Desiderava che gli uomini tornassero. Voleva avere un'altra opportunità per ucciderli. Cercò i suoi occhiali. Trovò il sacchetto della spazzatura, ma gli occhiali erano perduti. Tutto sarebbe stato annebbiato d'ora in poi, ma andava bene così. Non c'era comunque più luce. Le sue mani trovarono del sangue caldo e un corpo insieme a esso. Passò un minuto o due a spaccare a calci il cranio dell'uomo morto. Raccolse il sacchetto e, tenendo pronta la Ingram, si mosse con cautela attraverso la caffetteria, verso il punto in cui sapeva che si trovava l'uscita. Le punte dei suoi piedi cercavano buca nel pavimento, ma riuscì a raggiungere il corridoio senza problemi. Tremava ancora per l'eccitazione. Tutto era nero e silenzioso, tranne per un lento gocciolio d'acqua da qualche parte. Trovò a Tentoni il percorso verso la palestra con il suo sacchetto di bottino, ansioso di raccontare al re che aveva respinto tre orchi dalle gallerie e uno di essi si chiamava Shore. Ma ce ne sarebbero stati altri. Non si sarebbero arresi così facilmente e comunque non era sicuro se aveva ucciso o meno il sergente dell'accoglienza. Roland sorrise nel buio, con il volto e i capelli bagnati di sudore freddo. Era molto, molto orgoglioso di se stesso per aver protetto il re, anche se rimpiangeva di aver perso la torcia. Nel corridoio calpestò dei pedaveri che si stavano gonfiando come palloni. Questa si stava rivelando la partita più grandiosa che avesse mai giocato. Questo batteva di un anno luce la versione del computer. Non aveva mai ucciso nessuno prima. E non si era mai nemmeno sentito così potente. Circondato dal buio, dalla morte e con in mano un sacchetto di scarti e una mitraglietta Ingram calda, Roland Croninger conobbe la vera estasi.